Scendono in campo gli sfidanti all'attuale maggioranza del comune di San Giovanni Appiro. È stata infatti ufficializzata la loro lista che correrà alle amministrative del prossimo 31 maggio. Porterà il nome del gruppo costituitosi in seno alla minoranza, in comune, nato dalla fusione tra le due anime dell'attuale opposizione e avrà come candidato a sindaco, come già noto, l'avvocato Ferdinando Palazzo. Definiti anche 11 dei 12 candidati a consigliere comunale. Si tratta di Mario Cetrangolo, Lucia D'Angelo, Paola Di Mauro, Gabriele Fasolino, Felice Gagliardo, Ulisse Grizzuti, Cristian Iannuzzi, Franco Maldonato, Giuseppe Scarano, Alfonso Senape e Pasquale Sorrentino. Tra di loro spiccano i nomi dell'attuale capogruppo d'opposizione, Gabriele Fasolino, del suo compagno di scranno, Pasquale Sorrentino, membro della segreteria provinciale del PSI e del noto penalista, l'avvocato Franco Maldonato, per la prima volta in lizza per un posto al comune di San Giovanni Appiro. Resta ancora una casella da completare, il dodicesimo nome, che deve essere ancora definito fra una rosa di papabili. Ma la lista in comune ha già aperto la sua sede in Piazza Europa a San Giovanni Appiro e dato il via alle sue attività tra sociale, cultura e azioni ambientali, cercando di fare aggregazione. D'altra parte, alcuni dei punti fondamentali su cui hanno deciso di basare il proprio programma sono proprio lavoro, cultura e la riorganizzazione amministrativa. Ora dunque a San Giovanni Appiro la palla passa in mano all'attuale maggioranza. Sembra sempre più scontato, infatti, che a correre per questa tornata elettorale saranno due liste e c'è dunque attesa di conoscere la formazione dell'amministrazione uscente per vedere chi fra gli attuali consiglieri verrà riconfermato e quali saranno le novità. I nomi sono secondari, fanno sapere dalla maggioranza, stiamo lavorando ad una lista qualificata ma ciò che conta sono gli obiettivi e il fatto che siamo un gruppo coeso. Sebbene ancora non ci sia l'ufficialità, a correre comunque per la carica di sindaco al posto della Gianni che ha esaurito i mandati, sarà l'attuale vice sindaco, il commercialista Alberto Astone.